ciao oggi facciamo gli anellini metallici che si usano per tenere insieme le varie parti di un gioiello fatto a mano e quindi adesso vediamo di cosa c'è bisogno ecco il materiale di cui avremo bisogno filo metallico da 0,8 ma va benissimo anche da un millimetro forse è meglio a una tenuta maggiore il filo da un millimetro una taglierina come questa che abbia il lato uno dei lati piatto e che quindi faccia di conseguenza un taglio piatto nel filo un'altra pinza come questa attorno a cui avvolgere il filo per creare gli anellini vedete la classica pinza punte tonde oppure in alternativa una pinza come questa che è una pinza che ha tre posizioni per creare tre diverse misure di anellini oppure ancora potete utilizzare un qualsiasi oggetto di uso quotidiano che abbia la dimensione e la forma che voi preferite per esempio questo è il manico di un uncinetto un'occhiata da vicino alle pinze vedete queste hanno un lato che taglia di netto che taglia cioè a 90 gradi vedete di piatto cioè mentre dall'altra parte taglia a 45 gradi quindi se noi afferriamo il filo e lo tagliamo in questo modo otterremo un taglio un filo appuntito il filo appuntito non è esattamente il filo migliore da utilizzare in genere nella tecnica wire se si preferisce avere un taglio effettuato con la parte della lama piatta e quindi un taglio di piatto quasi netto pulito ci sono vari tipi di taglierine anche taglierine che hanno una doppia lama che fanno un doppio taglio diritto sia di qua che di qua e serve per chi lavora molto ha veramente tanti anellini da creare da tagliare o fili da tagliare potreste trovarla in commercio non molto facilmente ma ci sono e comunque una pinza così va benissimo queste sono le classiche pinze a punte tonde e questa è una pinza relativamente comoda se l'avete già altrimenti se non avete pinze così un qualsiasi oggetto di uso quotidiano a costo zero taglio un pezzo di filo come questo per esempio afferro un'estremità con le pinze con le ganasce delle pinze in un punto preciso io per esempio farò anellini abbastanza grandi quindi prendo in considerazione questo quest'ultima parte delle ganasce afferro quindi il filo e comincio a muovere la mano che tiene la pinza in questa maniera facendo scorrere il filo vedete il filo iniziale rimane sempre in questa posizione in modo da avere anellini della stessa grandezza cioè non mi sposto qui vedete rimango in questa posizione e continuo a fare scivolare il filo muovendo solo le pinze e non la mano vedete così in questo modo faccio un certo numero di anelli quelli che mi servono e poi mi fermo abbiamo fatto una specie di elica vedete ora ricaveremo gli anellini tagliamo un pezzo tagliamo qui e vediamo da vicino come si tagliano gli anellini ecco l'elica che ho formato vedete a tutti gli anellini della stessa grandezza e due pezzi di filo inizio alla fine che escono un po da forma circolare quindi posso tagliarli posso eliminarli tenendo presente che da ora in poi tutti i tagli che faremo saranno sempre con la lato della pinza piatto rivolto verso gli anellini che dobbiamo formare cioè dobbiamo utilizzare questo lato della pinza quindi togliamo oppure questi lembi che non servono facendo così tagliando la prima parte e tagliando anche la coda come vedete adesso posso cominciare a formare il primo anellino questo taglio che voi vedete è di piatto è netto quindi anche il secondo taglio dovrà esserlo per fare per ottenere questa cosa devo girare la pinza e tagliare il filo il secondo filo in questo modo con la pinza voltata verso l'anellino ecco in questa maniera entrambi i tagli saranno netti e quindi perfettamente combacianti ora questo taglio naturalmente non è netto non è di piatto perché la pinza era rivolta in questo modo quindi lo rifilo di poco lo rifilo quello che basta per avere un taglio piatto appunto dopodiché ripeto quello che ho fatto finora giro la pinza taglio il prossimo anellino continuo in questa maniera rifilo vedete taglio quindi piatto giro la pinza e taglio anche il prossimo anello ecco qua volevo farvi vedere l'anellino sperando che si veda abbastanza che i due tagli combaciano di nuovo prendo l'elica insomma e continuo a tagliare adesso faccio un po più fatica perché per mostrare alla camera naturalmente devo un po stortarmi rifilo e taglio sono arrivata quasi alla fine ok rifilo giro la pinza e taglio ecco qui quello che avanza quello che naturalmente non è perfettamente chiuso lo possiamo togliere possiamo eliminarlo dalla serie degli anellini ecco gli anellini appena formati spero che il tutorial vi sia piaciuto spero che vi possa tornare utile ciao alla prossima